Ciao a tutti! Oggi parleremo dell'ananas, una deliziosa e succosa frutta tropicale con numerosi benefici per la salute. L'ananas non solo è gustoso, ma è anche ricco di sostanze nutritive che possono migliorare il nostro benessere generale. Scopriamo insieme quali sono le proprietà, i principali benefici e le controindicazioni dell'ananas. Proprietà e benefici Ricco di vitamina C L'ananas è una fonte eccellente di vitamina C, che svolge un ruolo cruciale nel sostenere il sistema immunitario, combattere i radicali liberi e favorire la produzione di collagene per una pelle sana. Proprietà anti-infiammatorie L'ananas contiene una sostanza chiamata bromelina, un enzima naturale con proprietà anti-infiammatorie. La bromelina può aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo e può essere benefica per persone con problemi articolari o infiammazioni. Digestione e salute intestinale La bromelina presente nell'ananas ha anche effetti positivi sulla digestione. Questo enzima può aiutare a spezzare le proteine e favorire una migliore digestione degli alimenti. Inoltre, l'ananas è una buona fonte di fibre alimentari, che promuovono la regolarità intestinale e mantengono il sistema digestivo sano. Antiossidanti per la salute generale L'ananas è ricco di antiossidanti come la vitamina C, il beta-carotene e i composti fenolici. Questi antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi e contribuendo a ridurre il rischio di malattie croniche. Sostegno alla salute del cuore Grazie al contenuto di antiossidanti e composti antiinfiammatori, l'ananas può contribuire a mantenere la salute del cuore. Gli antiossidanti aiutano a prevenire l'ossidazione del colesterolo LDL, colesterolo cattivo, riducendo il rischio di accumulo di placca nelle arterie e promuovendo la salute cardiovascolare. Benefici per la digestione L'ananas contiene bromelina, un enzima che aiuta a scomporre le proteine e facilita la digestione. Questo può essere particolarmente utile per coloro che soffrono di problemi digestivi o digestione lenta. Effetto diuretico L'ananas ha un effetto diuretico leggero, che può aiutare a ridurre la ritenzione idrica e favorire l'eliminazione delle tossine dal corpo. Contribuisce alla salute delle ossa L'ananas contiene manganese, un minerale essenziale per la salute delle ossa. Il manganese svolge un ruolo importante nella formazione e nel mantenimento del tessuto osseosano. Controindicazioni Anche se l'ananas è generalmente considerato sicuro e salutare per la maggior parte delle persone, ci sono alcune controindicazioni e precauzioni da tenere in considerazione. Allergie Alcune persone possono essere allergiche all'ananas o ai suoi componenti. Se si manifestano sintomi come prurito, eruzione cutanea, gonfiore delle labbra o difficoltà respiratorie dopo aver consumato ananas, è consigliabile consultare un medico. Acido urico elevato L'ananas contiene una sostanza chiamata bromelina, che potrebbe aumentare i livelli di acido urico nel sangue. Le persone con alti livelli di acido urico o con una storia di gotta potrebbero voler limitare il consumo di ananas o consultare un medico prima di includerlo nella loro dieta. Interazioni farmacologiche La bromelina presente nell'ananas può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti, ad esempio, varfarin, gli anti-infiammatori non steroidei, ad esempio, ibuprofene e gli antibiotici. Se si sta assumendo regolarmente farmaci, è importante consultare il medico prima di aumentare significativamente il consumo di ananas o di integratori di bromelina. Problemi gastrointestinali L'alto contenuto di bromelina nell'ananas potrebbe causare irritazione gastrica o disturbi gastrointestinali in alcune persone sensibili. Se si hanno problemi digestivi o un'ulcera gastrica, è consigliabile evitare l'eccessivo consumo di ananas o consultare un medico. Effetto lassativo L'ananas contiene fibre e enzimi che possono avere un lieve effetto lassativo. Questo potrebbe essere benefico per alcune persone con problemi di stitichezza, ma potrebbe causare disturbi intestinali o diarrea in altre persone. È importante consumare l'ananas con moderazione e osservare la propria tolleranza individuale. Zucchero naturale L'ananas contiene naturalmente zuccheri. Quindi le persone con diabete o che seguono una dieta a basso contenuto di zuccheri dovrebbero prestare attenzione alle porzioni e monitorare attentamente i livelli di glucosio nel sangue. Come sempre, è importante parlare con il proprio medico o un nutrizionista prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta o di introdurre nuovi alimenti. Specialmente se si hanno condizioni di salute preesistenti o si stanno assumendo farmaci specifici. Come avete visto, l'ananas offre numerosi benefici per la salute grazie alla sua ricchezza di vitamine, minerali, antiossidanti e enzimi. Aggiungere l'ananas alla nostra dieta può essere un modo gustoso per migliorare il nostro benessere generale. Ricordate però di consultare sempre il vostro medico o un professionista della salute prima di apportare cambiamenti significativi alla vostra alimentazione. Ti è piaciuto questo video? Lascia un like e condividilo con i tuoi amici per diffondere i benefici dell'ananas. Iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato su altre interessanti informazioni sulla salute e il benessere. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video!